Volevi vedermi? Chiudi la porta. Che avevi in mente? Io... Siediti, per favore. Ci sono tre cose che proteggerei ad ogni costo. L'onore di questa nazione, la sicurezza della città e l'integrità di questo laboratorio. Come scienziati abbiamo un potere enorme, la capacità di stabilire la colpevolezza o l'innocenza. Ma quando analizziamo una scena del crimine e raccogliamo le prove, facciamo una promessa ai nostri cittadini. La promessa di trattare quelle prove con rispetto, integrità e buona fede. Rompendo questo sigillo hai infranto quella promessa. Non l'ho più fatto. Non ho usato quella prova. Volevo farlo. Lo ammetto, ma non sono riuscita ad andare fino in fondo. Sapevo che non avrei potuto conviverci. Non ci potevi convivere? O non potevi compromettere l'integrità di questo laboratorio? Sai quanto significa questo posto per me, Mac? Ma quel bastardo ha stuprato Regina due volte. E deve passarla liscia due volte. E se la nostra credibilità è messa in discussione, quanti altri resteranno a piede libero? Dieci? Venti? Cento? La verità è che... non puoi continuare a lavorare qui. Mi dispiace. Sei licenziata.